buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere una piccola panoramica per quanto riguarda shiba swap si avete capito bene shiba swap è finalmente live avrei voluto fare un video più dettagliato con i vari spostamenti di toccano che ripeto valute però data la mole di carico di utenti che stanno utilizzando provando a utilizzare questo swap è veramente quasi impossibile al momento riuscire a operare fare vedere tutte le funzionalità comunque per quel poco che sono riuscito a vedere andiamo ad osservare le sue funzionalità dopo la sigla shiba token.com e come notiamo in alto a destra c'è la possibilità di utilizzare shiba swap come sempre chi chiama col tasto destro del mouse facilitiamoci la comprensione di quello che viene scritto in lingua inglese e come vedete oltre shiba adesso ci sono altri due token shiba e la cripto valuta il token fondamentale che consente all'investitore di detenere milioni miliardi addirittura trilioni nel loro portafogli mentre lisce tradotto in italiano winzaglio era regionalmente impostato per essere un tocchi di rebese ma poi hanno rimosso il rebese e abbiamo liberato tutto il potenziale con una fornitura totale di solo 107 mila token rappresenta l'altra estremità dello spettro del nostro ecosistema lisce è l'altro token insieme a ban che nel shiba swap permetterà di ottenere delle ricompense per poter acquistare lisce basta cliccare su acquista guinzaglio e verremo riportati ad uniswap dove potremo fare lo swap con ethereum o qualsiasi altro tocco non cripto valuta detenuta nel portafoglio metamask rc 20 con lisce shiba swap ha visto la luce grazie a certi che ha controllato il protocollo il codice sorgente e ha approvato l'audit shiba ino non è solo suo app e non è solo un meme token ha creato un incubatore che permette ai creatori artisti di riuscire a sbizzarrirsi e avere tutto il supporto necessario per creare le loro opere d'arte inoltre supporta le community di cani randaggi tramite amazon smile si può donare e si può salvaguardare anche questi piccoli animali shiba swap è online andiamo a vedere brevemente il suo funzionamento ma che cos'è shiba swap come i normali swap è una mm ovvero un exchange decentralizzato in stile uniswap che possiamo utilizzare per andare a scambiare le cripto valute token senza che ci sia un intermediario a operare tra noi e lo swap all'interno di questo swap noi possiamo andare a scambiare i token su ethereum quindi con lo standard rc 20 e come ogni swap per chi fornisce liquidità al protocollo riceverà la ricompensa in bon lo vediamo in alto a destra bon è il token utility della piattaforma che farà dare world per il funzionamento della mm vediamo sempre in alto ad essa il valore di bon a questo momento in questo momento è di circa 25 dollari shiba swap è stato lanciato dopo che certi che security ha autorizzato lo dit sulla piattaforma di shiba swap quindi ha controllato il protocollo e la sua sicurezza e ha deciso di confermare lo dit per poter effettuare lo swap basta andare appunto su swap e possiamo andare a scambiare questi token all'interno del protocollo per connettere il nostro portafoglio bisogna cliccare su connetti connettere meta mask nella versione standard ovvero nella rc 20 ethereum chain era connetti wallet ora c'è una parte del mio address quindi shiba swap si è connessa perfettamente con meta mask in questo momento che sto registrando lo swap è molto lento perché ci sarà una molle di lavoro inimmaginabile visto che erano suop attesissimo dai fan come vedete cliccando su provide liquidity la pagina rimane in sospeso perché veramente c'è un carico pazzesco comunque cliccando su provide liquidity sia per la schermata dove noi possiamo andare a fornire una coppia di liquidità per avere come ricompensa bon è una cosa particolare noi possiamo anche creare una coppia personalizzata dei nostri token preferiti da offrire come liquidità cliccando su bari shiba noi possiamo andare a mettere lo stake token ovvero come vedete ci sono queste pool di shib leesh e bon cliccando ad esempio su shib qua ovviamente appare tutto zero perché io non detengo il token collegato a meta mas che non ho questo tocca all'interno di meta mas che quindi da 00 e 0 se avessi degli shiba all'interno di meta mas che essendo collegato io vedrei il resoconto di quanti shiba ogni possesso e da qua posso decidere se andare a mettere in stechi in shib e quanto il poter inserire da 25 per cento 50 75 100 o comunque possiamo inserire una quantità personalizzata allo stesso modo come vedete ne possiamo mettere sia in steche che a steche quindi levare dallo stechi i nostri token e le ricompense potranno essere in bono oppure un rapper e tirium questa funzionalità sarà online tra circa undici giorni è una cosa importante vincolando questi token verranno vincolati per sei mesi qui su wolf noi possiamo andare a mettere in stechi e avere delle ricompense utilizzando i nostri token sslp abbiamo ottenuto in precedenza come potete vedere possiamo mettere bon più duet lisci più vette scipa più vette uniswap vette sushiswap vette e così via questi come abbiamo visto prima li otteniamo utilizzando il bari e come potete notare essendo neonata gli apr sono veramente elevatissimi una cosa pazzesca bene siamo arrivati alla fine anche per oggi di questo brevissimo tutorial se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi ad attivare la campanellina ed un in me la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi alla prossima ciao 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 ciao